buonasera a tutto il gruppo eccoci qua già già a solo giornal buonasera dottore buonasera buonasera esatto su youtube il coperese ea una busta che cinque cosce tedesche voglio dire buonasera giurma cucciolo uno tubo uno tubo se volete una pier caffè da tu sapete che c'è sto io facciamo le mani che la calciotta bozzano oppla la eccoci qua poi la partina e poi niente vediamo tra un po cosa arriverà bye bye ciao 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 ciao